Amici di Android Blog, siamo ancora nello stand Samsung per questo ulteriore prodotto che è stato presentato. Possiamo vedere intanto sullo sfondo il Galaxy S5, possiamo vedere questo Galaxy Gear Fit, un braccialetto orologio smartphone, chi più ne ha più ne metta, che è stato creato per il fitness. Andiamo a vedere il tastino laterale, il sensore di battito cardiaco, la dock probabilmente per la ricarica, e quello che è il fiore all'occhiello, cioè il primo schermo Super AMOLED curvo implementato su un dispositivo indossabile. Le caratteristiche di questo Galaxy Fit sono quella di poter notificare le chiamate, i messaggi e le sveglie, probabilmente nient'altro, di poter monitorare ogni tipo di attività fisica mediante il battito cardiaco, sia in diurna che in notturna durante il nostro sonno. Il cinturino che vedete è in plastica, sembra molto resistente agli elementi, e è intercambiabile in quanto tutte le funzioni dello smartwatch o Galaxy Fit sono implementate nella scocca. Proviamo, cercando di non demolirlo, ad aprire il cinturino, come vedete, il corpo si stacca completamente e abbiamo la possibilità di sostituirlo in maniera davvero facile. Ricordiamo che il peso è di soli 27 grammi, quindi un dispositivo, oltre che bello da vedere, sinceramente con questa curvatura, anche molto comodo da indossare e probabilmente molto utile per il mantenimento della nostra linea e dei nostri esercizi fisici quotidiani. Anche per questo Gear Fit al momento è tutto, non mancheremo di effettuare ulteriori approfondimenti, soprattutto sull'interfaccia e funzioni non menzionate durante la presentazione, questo nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Per adesso, per questa preview è tutto, un saluto da Alessio per Androidblog.it